Un dinosauro draghi perché ci ha salvato, come un drago che spara il fuoco e brucia tutto, completamente. Quindi nelle vesti diciamo di un dinosauro i draghi. Nessun governo è amico dei lavoratori e lavoratrici. Neanche il conte quindi. Nessun governo è amico dei lavoratori e lavoratrici e né dei cittadini. Per cui abbiamo ancora le classi di spaio, i banchi con le rotelle, le classi con 30 persone. I diritti non se ne devono chiedere, li abbiamo salvati, punto e basta. Ed eccoci qui alla prima della scala, ma dall'altra parte della piazza, dove non ci sono le passerelle. Abbiamo voluto portare anche noi un tappeto rosso, ma un tappeto rosso diverso, in cui sfilano le problematiche che vivono le persone tutti i giorni. Bisogna ridistribuire le ricchezze, perché il 99% della popolazione vive sotto l'1% che detiene la maggior parte delle ricchezze del pianeta. Ed è una vergogna, rendito per tutti. Oggi abbiamo voluto portare qua, in piazza della scala, dei festaggi. E' possibile, ma costruiamo un sistema più eco e più giusto per tutti. Basta i privetti, basta privatizzare la sanità, le pure pubbliche. La sanità deve essere per tutti, accessibile e di qualità, la stessa maniera, tra nord e sud del mondo, uguale. E si tassassero i ricchi, si tassassero i potenti che oggi vanno tranquilli e tranquilli alla prima della scala.